Il sistema di sterzo ruote posteriori consente di sterzare le ruote posteriori a seconda delle condizioni di marcia per ottimizzare la tenuta di strada del veicolo. Quando si guida a basse velocità, in aree urbane, su aree tortuose o in fase di manovra, le ruote posteriori girano in senso inverso rispetto a quelle anteriori per migliorare la maneggevolezza del veicolo. A velocità superiori, ad esempio in fase di cambio corsia o in curva, le ruote posteriori girano nella stessa direzione di quelle anteriori per migliorare la stabilità del veicolo. Tenere presente che la configurazione di questo sistema dipende dalla modalità selezionata nel menu Multisense del sistema multimediale Open R-Link. Infine, se questa spia con il messaggio Controllare lo sterzo compare sul quadro della strumentazione, rivolgersi a un agente del marchio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS